Amici di Player Insight, Player Insight ve lo aveva detto, sarebbe uscito Nintendo Switch Mini, in realtà si chiama Nintendo Switch Lite ed era un po' il segreto di Pulcinella. Esatto, Nintendo l'ha confermato ufficialmente, ci ha illustrato tutte le caratteristiche e siamo qui per condividerle con voi insieme a qualche opinione ovviamente. Anzitutto Nintendo Switch Lite è più piccolo e pesa di meno, e pesa addirittura fino a 100 grammi in meno se consideriamo Nintendo Switch classico con i Joy-Con attaccati. Inoltre si è rimpicciolito anche lo schermo, passiamo dai 6,2 pollici di Nintendo Switch classico ai 5,5 pollici di Nintendo Switch Lite. Esatto, male perché purtroppo speravo io che non si sacrificasse lo schermo, anche se di poco, sinceramente avrei preferito la stessa dimensione, anche se ovviamente la risoluzione sarà uguale. Sì, 1280x720, quindi 720p in portatilità, onestamente effettivamente anche io speravo che si mantenesse la dimensione dello schermo a vantaggio magari di una dimensione complessiva, quindi delle plastiche della console, un po' più snella. Ed è così però hanno dovuto rimpicciolire, seppur di poco, anche la porzione di schermo presente. Inoltre altre caratteristiche che magari potrebbero far storcere il naso ai già possessori di Nintendo Switch classico che magari non vedranno un motivo valido per acquistare Nintendo Switch Lite è che per esempio non c'è la modalità da tavolo. Cioè non esiste neanche questo cazzillo, che si chiama cazzillo in gergo, per poterlo poggiare appunto così sul tavolo. Sì, ne abbiamo tre signori, esatto. Ne abbiamo tre, sì. Esatto, quindi in sostanza la modalità portatile sarà possibile attaccando i Joy-Con, cioè ovviamente collegando in wireless altri Joy-Con, però dovrete trovare un modo per tenerlo. Sì. In modo da guardare lo schermo non lo farà da solo la console. Esatto, e c'è la compatibilità piena con i titoli che però sono compatibili con la portatilità, ovvero soltanto i titoli che possono essere giocati in portatilità su Nintendo Switch possono essere giocati altrettanto anche su Nintendo Switch Lite. Anzi, ovviamente serve proprio a questo perché, signori, tenetevi forte, magari alcuni di voi ancora non lo avevano capito, anche se la presentazione ufficiale di Nintendo Switch Lite è stata piuttosto chiara, non sarà possibile in alcun modo collegare al televisore Nintendo Switch Lite. Quindi il discorso di Switch viene totalmente meno, cioè non potrete giocare sulla TV, non potete giocare in modalità tavolo, ma solo in portatilità. Soltanto in portatilità. È una console, ragazzi, che si aggiunge, come ha detto Nintendo stessa, alla famiglia Nintendo Switch. Pertanto è un'alternativa a Nintendo Switch classico e effettivamente il vantaggio è che sia più piccolo, che sia portatile e che possa servire a tanti coloro che magari, tra coloro che magari sostenevano di non giocarci mai sulla televisione. Per esempio io, io non gioco mai sulla TV, gioco sempre in portatilità, però l'idea di poterlo fare mi piaceva. È vero, è vero. Anche perché ogni tanto, devo dire, l'ho fatto. È vero. E insomma, Nintendo Switch Lite non permetterà di farlo, è proprio pensato esclusivamente per la portatilità, un vero e proprio console portatile a tutti gli effetti, però compatibile con tutti i giochi di Nintendo Switch, che ovviamente permettono la portatilità, ovvero praticamente tutti, ad eccezione per esempio di uno One-Two Switch. Che necessita dei gioi con aggiuntivi, che possono essere, come già detto, aggiunti in modalità wireless alla console Nintendo Switch Lite. Però ovviamente non abbiamo né un supporto, né possiamo giocarci sul televisore, giocarci in portatilità One-Two Switch, che già di sugo non è proprio il massimo. Ecco, forse non siamo... Esatto. Cioè, aggraviamo una situazione già precaria. Comunque, è chiaro, è chiaro che però la potenza della console è la stessa, la batteria dura poco più, nel senso che dura fino a sei ore, esattamente come Nintendo Switch classico, però durante la sessione di gioco può durare fino a un'oretta in più. Infatti, c'è scritto sul sito, per Zelda Breath of the Wild si può giocare fino a quattro ore consecutive contro le tre ore consecutive di Nintendo Switch classico con Zelda Breath of the Wild. E questa è una buona cosa. Questa è una buona cosa. Anche perché la batteria di Nintendo Switch non era male, però sinceramente giocare un'ora in più, soprattutto per una console pensata per la portatilità, è l'ideale. E ovviamente la caratteristica principale è l'impossibilità di staccare i Joy-Con, che sono integrati, non hanno l'HD Rumble, perché ovviamente sarebbe inutile in questo caso, e anche il design della crocetta è stato totalmente rivisto. Non si tratta di pulsanti, ma una vera e propria crocetta. Eh sì, caspita, cioè Nintendo ha perfezionato l'idea del D-pad anni e anni orsone, era chiaro che la rifacesse sua e la utilizzasse appunto in un contesto simile. Non sono d'accordissimo con il discorso batterie, non mi hai lasciato la possibilità di indicare... Ah, scusa, scusa! Perché subito sei passato avanti, però secondo me sarebbe potuta durare ancora di più. Cinque ore, via, to, te la butto lì. Perché se tu mi fai una console solo portatile, è bene che la batteria duri il più possibile. E il fatto che duri soltanto un'oretta in più rispetto a Switch Classico, non è che mi faccia proprio impazzire. Però questo avremo modo di vederlo e magari molti di voi non saranno d'accordo, perché lo dissi anche all'epoca dell'uscita di Nintendo Switch Classico, parliamo del 2017, che secondo me appunto tre ore non fossero poi chissà che cose, però tanti avete scritto, no, no, in realtà sono ottime, perché in realtà si può giocare tanto. Cioè è normale che sia così, nessun dispositivo sottoposto diciamo a un uso così intenso, soprattutto con giochi che richiedono maggiore sforzo, come una Zelda Breath of the Wild, effettivamente dura così tanto. Va bene ragazzi, qui sotto nei commenti avrete modo di dire la vostra assolutamente. È giusto, cioè più durata, maggiore la durata, meglio è ovviamente per una videogiocatori. Comunque in generale ragazzi i colori disponibili saranno tre. Sì, in generale. In generale saranno tre. All'azzurro che mi piace molto, il giallo e il grigio. Allora il grigio è da stronzi, lo sapete già, chi compra una console grigia a Nintendo è un po' stronzo. Ma lo sai che invece mi piace? Invece mi piace, stavolta. Perché ha i pulsanti bianchi. Stavolta è bello. E il contrasto non è male. È vero, non è male, però io lo voglio azzurro, come un bimbo micchio. Ma lo proveremo quando uscirà, ovvero il 20 settembre 2019. Esatto, e adesso veniamo alla cosa più importante, il prezzo. Ovviamente abbiamo illustrato tutte le caratteristiche, abbiamo visto che ci sono molte caratteristiche in meno rispetto a Nintendo Switch normale, ma anche il prezzo, devo dire che è decisamente più conveniente, perché si parla di 199 dollari. Non abbiamo ancora il prezzo italiano, in questo momento... Scommettiamo, scommettiamo, 199 euro. Speriamo, nel senso che non sia di più, ecco. Ah, tu dici che l'adattano, magari sarà 219 euro. Io non lo so. Però l'attuale Nintendo Switch classico costa oltre 300 euro, insomma si trova in occasione anche a 299, certe volte l'ho trovato anche a 260, 250, però insomma parliamo di un costo sensibilmente più alto, ma ha dei vantaggi, abbiamo visto si può collegare al televisore. Onestamente ragazzi, è esattamente quello che vi consigliavamo in questo video che trovate qui sopra, ovvero se volete acquistare Switch potete già farlo, perché Switch Mini, Switch Lite, insomma, è proprio un'altra cosa che si affianca allo Switch attuale e che potete prendere in considerazione qualora vogliate spendere di meno e avere una macchina che vi consente di giocare soltanto in portabilità. Quindi è una cosa proprio diversa. Per tutti coloro che magari giocano solo in portabilità, magari sul treno, in viaggio, non giocano mai a casa, è l'ideale, anche perché appunto è più leggero, eccetera, altrimenti noi siamo sempre per la versione full. Assolutamente, ed è esattamente ciò che vi dicevamo. Non preoccupatevi perché non si tratta di un Nintendo Switch 2, ma semmai, noi dicevamo in quel video di qualche giorno fa, sarà leggermente più, come dire, performante e a livello di batteria soprattutto. E infatti è proprio così. Poi per il resto è totalmente identico, anzi è pure più piccolo, quindi magari chi vuole mantenere queste dimensioni, queste proporzioni, comprasse Switch classico, è chiaro, costa di più. Ci sono dei vantaggi e degli svantaggi, nettamente, diciamo, io mi, come dire, mi dichiaro a favore, sì, dichiaro a favore ancora di Switch classico perché a me piace anche questa caratteristica proprio di Switch, ovvero del suo essere Switch, sia per quanto riguarda i Joy-Con, che fanno click, che è bellissimo, sia per quanto riguarda la possibilità, vuoi o non vuoi, insomma, in qualsiasi momento, di collegarlo al televisore, che è qualcosa che a me attira, che anzi era il motivo per cui, come dire, all'inizio ero entusiasta della nuova console Nintendo, perché comunque la consideravo una console da casa, la nuova console da casa di Nintendo, in realtà poi ibrida, e in realtà poi ci siamo resi conto di giocarla, soprattutto a livello portatile. È una cosa che ho già visto anche dal video, perché purtroppo non ce l'abbiamo ancora tra le mani, però già si vede, anche le dimensioni lo confermano, è in generale molto più piccola, proprio tutta, non solo lo schermo, quindi anche l'idea di metterla magari in tasche, in tasche molto grandi, di metterla in borsa, in uno zaino, in valigia, è decisamente più comodo. perché come vedi, è proprio decisamente più piccola. Su sito ufficiale viene riportato, Nintendo Switch classico come 102 mm, per 239 mm, vabbè, 23 cm, per 13,9 mm di spessore. Invece quello nuovo è 91, quindi 9 cm, per 20 cm, anziché 23,9, per 13,9, quindi lo spessore è il medesimo. è identico, sì. Ok, sì, è decisamente più piccola, ma ci mancherebbe altro che non fosse così. Ragazzi, queste informazioni in realtà ormai sono, abbiamo detto, è il segreto di Pulcinella, sono vecchie come il cucco, addirittura, Nintendo Switch Lite era stato già, l'iccato, addirittura con un'immagine, della versione azzurra, da parte di un sito cinese, diversi mesi fa, parliamo di aprile, e noi ve ne abbiamo parlato, come rumor più insistenti, perché noi nelle news della settimana, valutiamo quali rumor riportare, e di solito si sono sempre, rivelati fondati, questo perché ragazzi, quando sono frequenti, e soprattutto avallati, magari da accessori già in uscita, abbiamo visto che Big Ben, stava producendo i suoi accessori, per Nintendo Switch Lite, chiamato ancora Mini, e cose del genere, alla fine ragazzi, si rivelano fondati, e così è stato, insomma, va bene ragazzi, bene ragazzi, fateci sapere cosa ne pensate, se secondo voi fa per voi, oppure no, e noi vi ringraziamo, e ci vediamo alla prossima, vi mettiamo il sondaggino qui, Switch Lite o Switch Classic, fate voi, insomma, considerando anche il prezzo, vantaggi e svantaggi, ciao!